Chi sei tu? Come che sono io? Sono un personaggio pubblico. Lucio Dalla, l'abbiamo messo senza chiedere niente a Dalla, così piano piano nacco la storia di Borotalco. Senti, è vero che c'è Dalla? Com'è questo? Comendatore Domenico Sputo, ma perché Domenico Sputo? E beh sai, sono le invenzioni di Lucio. Diceva bugie per far vedere che aveva le calze, era di pentipiedi. Lucio, chi sei tu? Il Folletto Geniale, di Leonardo Metalli, Speciality G1, domenica 22.40, Rai 1. Grazie. 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 Grazie.